Vietato soffrire per un amore non corrisposto? Molte persone soffrono per amore non corrisposto, ma non si rendono conto che non sono amori, perché uno degli ingredienti principali, diciamo così, dell'amore è la reciprocità, è lo scambio di energia. Se uno non ti, come dire, non scambia amore con te, non ti corrisponde in una relazione, in un sentimento, o tu ami a prescindere, ma senza interagire con questa persona, quindi sei consapevole del fatto che io lo amo, però non interagisco con questa persona e quindi non mi lamento e non soffro neanche, perché sviluppo comunque l'amore. Ma se soffri per qualcuno che non ti corrisponde, è la cosa più stupida che puoi fare, perché, come dire, prima di amare qualcuno dovresti pensare che deve esserci reciprocità, non puoi amare qualcuno che non ti ama. Non c'è differenza tra quelli che si innamorano del poster di Brad Pitt o di Brad Pitt in persona, diciamo, che però non potranno mai avere, cioè quelli li giudichiamo stupidi. Se invece ti innamori del vicino di casa che però tanto non ti considera o ti considera tanto quanto ti considera Brad Pitt, cioè zero, e per lui soffri, o lo considero una cosa normale, non ha nessun senso. Sono delle situazioni adolescenziali, non possono essere, diciamo, prese in considerazione. Quindi è una caratteristica delle persone ossessive, no? Cioè l'oggetto di desiderio diventa un'ossessione, ma dovremmo cercare di capire che siamo noi, che dovremmo capire e scegliere di chi innamorarci e dovremmo scegliere di chi innamorarci della persona giusta, non della persona sbagliata, di quello che ti corrisponde. Eh, ma al cuore non si comanda, si dice. Non vuol dire che al cuore non si comanda. Al cuore si può comandare quando si offrono altre emozioni, perché alla nostra sfera emotiva intanto viversi l'emozione per un rifiuto o per, diciamo, un'accettazione è esattamente la stessa cosa. Quindi è la cosa peggiore che si possa fare. Quindi se soffri per un amore non corrisposto, renditi conto che non è amore e cerca di invertire la rotta e di rivolgerti ad altre situazioni, ad altre persone che invece ti possono corrispondere, con la quale puoi instaurare una relazione. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo Liberty dei Narcissisti con Massimo Terramasco. Ciao, al prossimo video.